Io al centro di piazza San Pietro ad attendere il funerale di un papa celebrato da un altro papa davanti alla chiesa più grande mai realizzata da un essere umano e mentre da subwoofer eccezionale esce musica sacra, San Pietro è senza cupola. Siamo alla sinistra del sagrato, mi sono intrufolata, prima che mi sgridino volevo fare qualche ripresa. Spirito El Invito